Il nostro compito è quello di svolgere la funzione di ACO, cioè coordinatore delle attività aeree. In questo modo noi consentiremo a tutti gli assetti aerei partecipanti di avere un flusso di comunicazioni più snello ed utile a salvaguardare al meglio la sicurezza delle operazioni. Tutti gli assetti volanti coinvolti nell'operazione sono in totale di 8, di cui 6 elicotteri e 2 aerei. Il compito degli elicotteri è quello di, innanzitutto, contribuire alla ricerca dei naufraghi. Dopodiché, una volta individuati, avranno il compito di recuperarli dall'acqua e consegnarli al punto medico avanzato situato su un nave 18. Il compito degli aerei, invece, è essenzialmente riassumibile nella ricerca. Noi ci troviamo a 30 miglia sud-est di Cagliari, ad una quota operativa di 3.000 piedi, circa 1.000 metri, e sorvoliamo tutta l'area destinata alle operazioni di ricerca, che è prossimamente un'area di 225 miglia quadrate. Questa per noi non è una novità assoluta, in quanto aereo multiruolo possiamo svolgere sia funzioni di coordinamento, come in questo caso, ma possiamo anche effettuare attività di pulizia marittima, di vigilanza ambientale e di ricerca e soccorso in prima linea.